ciao a tutti allora oggi giornata da contadina salzato porto fuori cani solite cose poi ho messo ad asciugare ho fatto un po di zucchine e peperoni ne avevo già fatti qualche vasetto 3 consiglio fatti con aglio aglio timo perché scusate momento di gustazione comunque ho fatto tre vasetti aglio timo queste qua di zucchine aglio timo queste quale farò aglio menta poi oggi c'è da fare l'erba oggi a posto le oggi ho fatto le cose adesso che le vado a mostrare non guardate il casino queste qua sono tutte coste che adesso dovrò mettere in congelatore ho preparato il lancio per i nani adesso adesso vi faccio vedere cosa ho fatto avete pazienza ho pulito un po di basilico che poi ho rigorosamente congelato una volta congelato lo prendete se non si strappa il sacchetto lo schiacciate quindi sarà anche più facile per fare il petto in più dovete proprio farlo da ghiacciato perché sennò vi diventa tipo un gelato però non facendo non scaldandosi non diventa nero comunque dopo una volta che è schiacciata è così questo è il basilico che ho pulito ieri poi cosa ho fatto ha otto usato dino perché aveva pensato di andare a ravanarsi nella cacca del tasso il nostro simpaticissimo animale niente poi adesso andrò giù in giardino a tagliare l'erba e basta però oggi penso che poi potrò anche licenziarmi niente questa era la mia giornata tipo adesso che abbiamo verdura nell'orto c'è da trafficare ciao buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti